Ecco come si presenta la spiaggia di Bussana. Qui il mare ingrossato ha portato su un litorale a massi di legni e una gran quantità di detriti ed ogni sorta di rumenta. Un litorale è diventato una pattumiera. A preoccupare non poco non è rappresentato dalla quantità di detriti trasportati dalla corrente del mare, quanto dai vari oggetti di uso quotidiano e prettamente domestici che sono abbandonati sulla spiaggia. Un gesto che illustra una scarsa educazione alla salvaguardia del territorio, ma che porta con sé conseguenze devastanti. Le microplastiche contenute nella maggior parte dei rifiuti infatti vengono ingerite da pesci e molluschi che poi consumiamo a tavola. Invece a Portosole di Sanremo la forza della mareggiata ha sfiancato un muro sulla banchina della Prodo e la zona ora è off limits e resterà chiusa fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza. Anche qui si sono accumulati i detriti portati dalle onde, mentre i danni all'asfalto sono ben visibili. Oggi però a farla da leoni sono stati i surfisti provenienti da ogni parte d'Italia e dalla vicina Francia, che a Sanremo hanno cavalcato l'onda giusta.